Ciao a tutti amici sportivi, Gavirate, Lago di Varese con Fabio Vigliarolo, ciao Fabio, ciao a tutti, allora Fabio Vigliarolo, uno dei migliori atleti per quanto concerne il canotaggio italiano, gaviratese e quindi per noi è un onore poter questa sera qui a Gavirate intervistare un grande esponente anche in prospettiva di questo sport, allora Fabio raccontaci un po' la tua carriera, niente io ho iniziato dieci anni fa qua a Gavirate e niente adesso sono tesserato presso la canottiera Ilario da un paio d'anni e durante la mia carriera ho partecipato a quattro mondiali tra cui ho conquistato una maglia di bronze nel 2010, a una Coupe de la Jeunesse e vari podi e campionati italiani quindi una buona carriera diciamo. Allora appena fatti i mondiali probabilmente avresti ambito a una posizione migliore però diciamo Sesti è un buon risultato, parlaci un po' di questo lago che dicono tutti che è un lago meraviglioso per fare questo sport. Sì io anche allenandomi qua per tanti anni ho avuto modo di apprezzarlo e penso anche tutte le nazioni, infatti anche adesso Gavirate è diventata da un paio d'anni sede del comitato australiano per quanto riguarda gli allenamenti e tante nazioni anche appunto si appoggiano. Abbiamo avuto anche l'occasione quest'anno di poter partecipare al campionato del mondo e sicuramente è stata un'emozione sia per noi gareggiarci ma anche per le altre nazioni poter disporre di questo lago, avendo visto anche tanti altri campi non è la stessa cosa. Allora in prospettiva tra due anni ci sono le Olimpiadi a Rio de Janeiro, ce la facciamo oppure no? Il sogno è quello, quest'inverno ho partecipato a un paio di raduni con la nazionale assoluta e speriamo l'anno prossimo di rientrare nel gruppo olimpico. Ritornando al discorso mondiale appena conclusesi, mi sembra aver capito che c'è stata un'ottima organizzazione, tu cosa ne pensi? No, quello decisamente, infatti anche il comitato della FISA, ovvero l'organo che gestisce tutte le gare, ha indicato e anzi ha proposto Gavirate per i prossimi campionati del mondo assoluti, già l'anno prossimo ci sarà la seconda prova di Coppa del Mondo quindi sicuramente l'organizzazione nonostante anche le condizioni meteo non fossero ottimali, ha risposto benissimo, quindi ottimo per il territorio. Allora grazie per questa ulteriore promozione del territorio, dici che altro sport hai fatto fin qui, non solo canottaggio perché un ragazzo così fisicamente mi sa che è il basket? No, inizialmente giocavo a calcio e dopodiché mi è stato consigliato anche appunto di intraprendere in altre attività sportive dati i problemi fisici, è stato combattuto tra iniziare canottaggio e basket e grazie a mio papà e anche ad altri amici ho deciso di iniziare il canottaggio. Mai scelta così oculata perché il ragazzo fa parte della nazionale quindi è già raggiunto un livello molto molto alto. Allora Fabio, noi ti facciamo i migliori auguri, i migliori in bocca al lupo per la tua carriera da qui in avanti e che tu possa raggiungere qualsiasi obiettivo. Ciao Fabio. Ciao, grazie.